I pronostici sono stati rispettati nelle due gare di semifinale di Coppa Italia di hockey su pista di Serie 2. Vercelli e Viareggio si impongono per 7 a 0 e 4 a 2 contro rispettivamente Forte dei Marmi e Roller Bassano. Due gare dove le due favorite ci sono imposte con il ritmo e sono riuscite già nei primi minuti a mettere le cose in chiaro. Il Forte dei Marmi è rimasto sorpreso dalla velocità dei gialloverdi mentre il roller Bassano è andato in svantaggio da un rigore di Muglia. I bianconieri poi con il vantaggio di 1 a 0 hanno allungato nella ripresa dopo che il roller ha fallito un tiro diretto e diverse occasioni sottoporta grazie anche alle parate del portiere Carmazzi. Nella ripresa raddoppia lo stesso Muglia e poi l'argentino Geda hanno permesso di restare ad un triplice vantaggio prima del ritorno nel finale dell'avversario dopo tante occasioni create. Tre gol di Samuele Muglia, il massimo gol ad orde della Serie A2 con la tripletta in semifinale raggiunge quota 60 di sigilli personali. Quattro invece le reti realizzate dall'argentino Moiano nella gara tra Vercelli e Forte dei Marmi. La precisa formazione piemontese ha capitalizzato tutto il possibile nonostante l'avversario abbia creato diverse situazioni pericolose davanti ad un ottimo Enrico. Il risultato finale è anche sin troppo pesante per 7 a 0. La finalissima sarà quindi quella tra Vercelli e Viareggio, un'anteprima speriamo del prossimo campionato di Serie A1 ed sarà in programma al palaforte il 25 aprile alle ore 11.